Carissimi amiche, carissimi amici di Rossini TV, benvenuti questa sera. Questa è una serata importante perché Rossini TV inaugura una serie di trasmissioni, esattamente quattro, realizzate con un'azienda del territorio che si chiama Cosmo Life e si trova nella Valle del Foglia, precisamente a Rio Salso, Cosmo Life un'azienda che si occupa del benessere delle persone. Abbiamo detto quattro puntate, tanti gli argomenti che affronteremo, tanti prodotti che presenteremo realizzati da Cosmo Life e per fare questo abbiamo ospiti negli nostri studi. Questa sera Lidano Casoli e Tiziana Franca. Buonasera a tutti. Loro due sono i soci che gestiscono Cosmo Life. Tiziana Franca, io ho detto Tiziana Franca, in realtà il nome è Tiziana e il cognome è Franca. Esattamente. Ecco, quindi diciamo che almeno qui ci abbiamo preso. Qui siamo tranquilli. Qui ci siamo. Tiziana, di cosa si occupa esattamente Cosmo Life? Quest'azienda che mi pare di aver capito ormai è presente da più di vent'anni e davvero propone un approccio innovativo a quello che è il benessere e l'aspetto salutistico delle persone. Allora, nostra azienda nasce più di vent'anni fa, come è stato detto, e lavora proprio sulla vibrazione del corpo, sul campo vibrazionale umano, cioè su tutta quello che l'energia è una frequenza nell'universo e che sia noi come esseri umani che gli strumenti o tutto quello che riflette energia. Noi andiamo con degli strumenti a focalizzarci sul benessere totale della persona, riportando un equilibrio psicofisico. Che cosa significa? Significa tutto ciò che noi depositiamo nel nostro corpo, lo facciamo attraverso la nostra mente, gli stati emozionali negativi che si svolgono durante la giornata. Tutto questo ci induce a non stare bene con noi stessi, con il nostro corpo. E così noi nasciamo con questo strumento che li danno in mano, che serve il nostro strumento principale della Cosmo Life, dove andiamo proprio a ritrovare un benessere attraverso soluzioni poi di acqua e come noi ci possiamo apportare a questa cosa in maniera molto semplice e naturale, per trovare proprio questo benessere. Questo equilibrio. Questo benessere. Bravissima. Tiziana, ha parlato di energia vibrazionale. Allora, tentiamo anche di capire meglio il concetto in modo tale che possiamo renderlo più chiaro a chi ci segue. Allora, vibrazionale perché noi conosciamo la parte materiale del corpo, quella che noi vediamo, ma non riusciamo a vedere a occhio nudo quella che è la vibrazione di un corpo, perché sia il corpo che nell'universo è tutta una vibrazione che emette delle frequenze. Queste frequenze poi vanno in risonanza. Io e lei, Antonio, siamo in questo studio. Ognuno di noi ha una frequenza che può andare in risonanza o non. Tutto questo può portare nella quotidianità, nel tempo, a disturbarci quanto la nostra frequenza non è in armonia. Perciò noi andiamo a lavorare su un'armonia proprio vibrazionale. Perfetto. Quindi è molto chiaro e considerate che queste sono cose ormai comprovate a tutti i livelli. Lidano, tu vedo che hai sulle ginocchia un apparecchio e hai quasi degli elettrodi. Ci spieghi esattamente di cosa si tratta? Dei manipoli e dei puntali. Dunque, questo è uno strumento che riporta in armonia la frequenza captata. Cosa vuol dire? Che io con questo puntale vado a toccare la parte interessata, diciamo, dove c'è una problematica e lo strumento non fa altro che riequilibrare questa problematica e ridartela. Si crea un circuito tra strumento e il tuo corpo. E organismo. Quindi un circuito virtuoso che va a interagire con queste vibrazioni. Sì. Esatto. E considerate quindi che è questa piramide che il signor Lidano tiene sulle sue ginocchia. Tiziana Franca, ma esattamente quali sono i prodotti? Quali sono le cose che create, che fate per poi mettere le persone in grado di interagire con le vibrazioni? Allora, noi abbiamo diversi strumenti, oltre a questo ne abbiamo anche altri. Principalmente abbiamo uno strumento dove la persona può inserirsi all'interno e questo è Big Mama. Poi abbiamo un Little Mama che andrà invece a riportare un equilibrio al cibo, perché per noi è fondamentale anche il nutrimento. E abbiamo anche una cosmesi vibrazionale, che poi spiegheremo la motivazione di come nasce questa cosmesi vibrazionale. E abbiamo anche delle solette energetiche vibrazionali, proprio tutto per completare un ciclo vitale delle persone per star bene con se stessi, in armonia con se stessi. Quindi Cosmo Life produce una serie di prodotti, di strumenti utili a far sì che il corpo degli esseri umani possa rispondere meglio a questo campo vibrazionale. Di cosa si tratta esattamente, Lidano? Quali sono le cose che Cosmo Life crea per far sì che questo circuito virtuoso venga messo in atto? Allora, come diceva Tiziana, abbiamo lo strumento Cosmo Life che abbiamo visto prima, Big Mama, le solette, Little Mama e la cosmesi vibrazionale, essenza di luce. Tornando al discorso di Big Mama, Big Mama al suo interno, diciamo che crea un campo vibrazionale, campo energetico, che noi diciamo è il campo energetico primordiale da dove proveniamo tutti. E quando ci si siede all'interno di Big Mama, praticamente si rientra nel gruppo materno universale, da dove siamo partiti. Quell'energia che ci ha generato nella notte dei tempi ci rigenera. Perfetto. E questo campo energetico proprio che si, per certi versi, si può percepire all'interno di Big Mama. Effettivamente a cosa serve? Serve a riportare un equilibrio sia a livello fisico che a livello emozionale, perché per noi le problematiche che possono esistere su un corpo sono sia a livello fisico, ma vengono diciamo metabolizzate a livello emozionale, depositiamo nel nostro corpo e andiamo a creare dei blocchi energetici. Poi qui sicuramente Tiziana può interagire su questo aspetto, anche perché effettivamente ormai anche le frontiere della medicina classica non possono nascondersi il fatto che le patologie, il nostro organismo è un tutt'uno, molto tantissimo parte dalla testa e poi si traspone agli organi vitali e viceversa. Quindi è davvero un'interconnessione continua alla quale ormai non si può più pensare di non far riferimento. E infatti, l'ha già detto Tiziana prima nella sua premessa, ci sono delle persone che magari hanno più necessità di trovare queste vibrazioni in senso positivo. Chi, secondo Tiziana, dovrebbe fare uso di Big Mama e anche perché? Allora, l'uso del Big Mama va bene per tutti, perché io premetto, parto dalla premessa che una persona che è già abbastanza in equilibrio la può mantenere, una persona che non ha un equilibrio può andare a ricercarlo proprio attraverso il Big Mama. Perché Big Mama consente al corpo di ritrovare quel equilibrio mancante e mettendo all'esterno le emozioni negative che sono quelle che ci creano dei blocchi energetici. Noi lavoriamo sempre sull'energia, sulla vibrazione, perciò questo blocco energetico è come se creasse un vuoto e il nostro corpo si creano delle problematiche che poi ci disturbano. Le motivazioni per cui possiamo essere disturbati sono tantissime, da un sonno non più naturale, dal non riuscire ad avere un apporto durante la giornata di stanchezza, di pesantezza e anche altre patologie che poi potrebbero sorgere nel nostro corpo. Andando ad emettere questi stati emozionali negativi all'esterno del nostro corpo, noi riusciamo a ritrovare quell'equilibrio, parliamo proprio di equilibrio psicofisico, cioè tutto dalla mente al corpo. E questo non fa nient'altro che allineare il nostro benessere generale. Oltretutto è un elemento importantissimo quello che ci dite, perché? Perché comunque sappiamo benissimo che il sintomo è solamente l'ultimo anello della catena. Quando c'è male a qualcosa, quando si sta male per un motivo, quando non si dorme, c'è un motivo. Esatto. C'è un motivo e forse buona parte di quel motivo è nella mancanza, per dirla in maniera molto semplice, di questo equilibrio del quale stiamo parlando. Ma un trattamento, quanto dura un trattamento? Come si fa fisicamente? Allora, un trattamento dura all'incirca un'oretta, da quanto la persona arriva alla nostra sede o dove c'è il Cosmolife. La persona si toglie tutti i metalli che ha addosso. Naturalmente noi avvisiamo sempre di venire vestiti comodamente, niente di particolare ma comodamente. Poi la persona si inserisce all'interno del Big Mama. Questo strumento non è collegato a corrente energetica niente, perché lavora sull'energia proprio vibrazionale primordiale. La persona all'interno, con una musica di sottofondo a 432 hertz, noi andiamo a dare alla persona la possibilità di mettere il suo corpo ad ascoltarsi e di poter evacuare queste situazioni negative. Ognuno lo vive in maniera completamente diversa. In questa infrangente, in questo contemporaneo di minuti, la persona può avere delle sensazioni nel corpo, anche vedere delle immagini, ma non perché è proprio il corpo che proietta dei significati. E noi qui dopo potremo anche andare a spiegare alla persona, arriviamo sempre dopo, finito il trattamento, a spiegare alla persona esattamente su che cosa ha lavorato, elaborato, per dargli una spiegazione di comprensione su cosa ha lavorato all'interno del Big Mama. Certo, quindi ma esattamente quanto dura? Se dobbiamo fare un discorso temporale, quanti minuti. Come diceva Tiziana, la seduta all'incirca sono 40 minuti. Poi dopo c'è l'impatto iniziale e c'è quello finale dove la persona, ciò che ha vissuto all'interno di Big Mama, poi viene decodificato perché può avere avuto sensazioni sul corpo, può avere visto delle immagini, come proiettate diciamo in uno schermo e di conseguenza tutto questo poi viene decodificato perché è importante far comprendere alla persona ciò che ha vissuto. Bravissimo, infatti è una sorta di, sicuramente una sorta di momento che ci si prende per se stessi. Ci si prende per se stessi, ci si isola dal resto del quotidiano, da tutto quello che ci avviene in ogni momento della vita e si entra in questa dimensione per circa tre quarti d'ora per capirci meglio. Ma detto così, parlando dall'esterno, faccio la domanda che sicuramente tantissimi nostri ascoltatori in questo momento si stanno facendo. Ci sono contraindicazioni per questo trattamento, Tiziana? Assolutamente no, no perché lavoriamo con l'energia da cui noi nasciamo, praticamente l'energia è un campo magnetico tutto nell'universo dove noi siamo immersi e non ci sono contraindicazioni. Ma bisogna venire per forza a Cosmo Life a fare il trattamento? Uno potrebbe dire me lo porto a casa. Allora uno, infatti, questa domanda è molto importante, uno se lo porta a casa perché c'è anche chi se l'ha portato a casa, nel vero senso della parola, perché a casa tu ti crei l'angolo della vita per la vita, dove vai a rigenerarti. Quell'energia che ti ha dato vita nella notte dei tempi non fa altro che adesso ti ha generato e adesso ti rigenera. Questo è molto importante. Quindi davvero è quell'angolo della propria abitazione, del proprio nido nel quale andare a ricostruire una realtà di benessere straordinario nella quale veramente in quel momento ci si può immergere. Ovviamente, l'abbiamo detto, stati di ansia, stati di stress, stati patologici, piccoli sintomi fastidiosi, ma credo che, visto e considerata anche l'importanza che oggi lo sport dà alla concentrazione, dà alla capacità di isolarsi prima, per esempio, di una prestazione importante. Ecco, probabilmente Big Mama potrebbe avere anche un ottimo ruolo per quello che riguarda la preparazione degli sportivi. Assolutamente sì, perché come tutte le cose è una concentrazione diversa, cioè laccare il corpo in maniera adeguata per poter affrontare le situazioni. È importantissimo, questo rende proprio la struttura del corpo completamente diversa e la concentrazione diversa, perché si laccare in alto di quelle situazioni che ci creano dei blocchi e che non ci consente al fine di verificare veramente qual è la situazione. Perciò per gli sportivi potrebbe, noi l'abbiamo già testato su alcune persone sportive, che l'effetto è molto positivo. Ci immaginiamo, per esempio, seguiamo con grande passione uno sport che in questo momento peraltro è presente anche a Pesaro con un campioncino che si chiama Luca Nardi, un tennista. Noi siamo appassionati di tennis e vediamo questi ragazzi, questi giocatori, vivere delle emozioni straordinarie durante una partita, ma immaginiamoci cosa c'è prima di quella partita a livello di mental coach. E addirittura forse Big Mama potrebbe avere un'azione sicuramente che in più con l'azione del mental coach potrebbe davvero arrivare a un obiettivo di straordinaria concentrazione per il tennista. Sì, perché in effetti Big Mama ti libera talmente tanto la mente che, diciamo, tu arrivi proprio a non avere più pensieri, cioè leggero e affronti, diciamo, la performance sportiva in un modo molto elevato. E poi dopo, perché lo sforzo che fai durante, diciamo, l'attività sportiva può portare anche, finito, diciamo, l'attività sportiva non fai altro che ritornare volendo dentro Big Mama dove ti vai a riportare in equilibrio tutto ciò che durante l'assetto, diciamo, la performance sportiva è venuto a mancare, hai creato dei problemi, dei disagi, hai creato al tuo corpo e di conseguenza li ritrovi in equilibrio prima e dopo, è essenziale. Pensate che uno dei campioni di calcio più famosi di tutti i tempi, che si chiama Cristiano Ronaldo, la leggenda dice che dopo le partite va a fare la crioterapia per diversi minuti a chissà quanti gradi sotto zero, crediamo che forse una disciplina come questa possa davvero essere addirittura aggiuntiva, se non sostitutiva di una cosa che è più difficile come effettivamente la crioterapia che non è che si può fare dappertutto o si può fare in qualunque situazione, quindi sicuramente per riportare lo sportivo a una condizione fisica già di benessere dopo lo sforzo in vista dello sforzo successivo. Dopo lo sforzo e prima dello sforzo, questo è essenziale, praticamente diciamo che non dovrebbe mancare, soprattutto poi per chi fa uno sport molto, come ti posso dire, prendiamo i corridori di moto, una competizione di moto e lì hai bisogno del massimo della concentrazione e con Big Mama ce l'hai, è questo. Perfetto, lo suggeriremo senz'altro a sportivi importanti che prima o poi avremo modo di intervistare. Grazie a voi, quindi concludiamo questa prima puntata, questo primo appuntamento insieme a Cosmo Life, grazie a Tiziana e grazie a Lidano per essere stati con noi, ci vediamo la settimana prossima e affronteremo un tema interessantissimo che sarà quello delle solette. Esattamente. Benissimo, grazie. Grazie a tutti, grazie. Grazie a voi per averci seguito. Ci vediamo la prossima settimana. Buona serata.